C'è un momento proprio chiarissimo nel quale l'uomo si piazza davanti alla videocamera, che poi c'è anche in monitor, ce ne quattro di monitor, quindi si vede che ti stanno registrando, che guarda e lui è consapevole di essere registrato, semplicemente se ne frega, aveva avanti. Sono entrati all'interno di un noto negozio di fumetti di Arezzo in via Piave dopo aver distratto la madre del titolare, in quel momento assente, sono riusciti a portar via circa 300 euro. Il tutto con una grande sfrontatezza e davanti alle telecamere della videosorveglianza con tanto di monitor che riprendono tutta la scena. Per fortuna la cassa non conteneva un grande quantitativo di contanti, ma un episodio che riporta l'attenzione sul tema della sicurezza in questa via del quartiere Saione. Sono entrati in tre, una ha distratto la mia mamma che in quel momento era lì, la facente funzione diciamo così, e chiedendogli non so esattamente cosa, comunque la distratta per due o tre minuti. E una seconda persona si è piazzata nel mezzo tra mia madre e la cassa a fare il palo, praticamente, e c'era una terza persona, che questo era un uomo, le prime due erano donne, che ha fatto il giro dietro la cassa e ha preso quello che è riuscito a trovare, insomma. La sono tornato, la mia mamma mi fa, Angelo, ma hai preso te i soldi da borsello? Dico, ma aspetta un attimo, dico, ma non è che te li ha rubati? Ti dico, guardiamo il video, per fortuna abbiamo una videoregistrazione e si vede chiaramente quello che è successo. In Via Piave la situazione si è tranquillizzata rispetto all'estate o ci sono sempre i soliti problemi? Potrei dire di nogi, però la verità è che sì, effettivamente sì, c'è stato un controllo massiccio e gli episodi sono nettamente diminuiti, però come vedi siamo sempre lì. Grazie a tutti.